bello a tutti ragazzi da Soprono 3 eccoci qua su minecraft xbox one allora nello scorso episodio abbiamo fatto il giù in fondo il tiro con l'arco come potete ben vedere qua non va bene posso zoomare ma la proprio nella farm dove si recuperano alberi anzi ve la andiamo ve la faccio vedere che vabbè poi sono furbo perché ero già la ero dovevo far vedere un'altra cosa ma andiamo a vedere che ho fatto un aggiornamento ho messo ho piantato praticamente le betulle adesso perché le betulle fanno diciamo il tronco più a parte che l'uso dappertutto vedete per le recinzioni qua è tutto la betulla diciamo quindi qua adesso vedete c'è già quasi uno uno stack di perché le betulle praticamente fanno il tronco corto in modo tale che così e le foglie le fanno alte in modo tale che ragazzi se voi vedete non devo spaccare tante foglie per passare e poi ovviamente cosa succede riesco non serve solo non serve sempre che metto lì che mi metto lì a come si dice che mi metto a a tagliare cioè arrampicarmi lì a lasciare un blocco perché il tronco è corto quindi vedete qua si passa tranquillamente e non c'è problema io finisco l'ora di raccogliere questa legna e andiamo un attimino a diciamo un attimino finisco la quale questa legna poi andiamo a vedere un'altra un'altra diciamo cosa che ho fatto che mi piaceva dobbiamo anche si preghiarci che mica so io quanto manca il sole non lo vedo ma comunque diciamo che fra un po farà anche buio e quindi volevo far vedere con un'altra cosa non è una roba importante ok adesso vado a piantare gli alberi e ci vediamo direttamente nei paraggi perfetto allora 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 vediamo qua 5 ragazzi guardate qua io cocomeri non li raccolgo più perché alla bellezza ho raccolto tutta una cassa intera di cocomeri adesso dovrei ricominciare a fare carote c'è ancora carote d'oro queste quasi quasi me le porterei direttamente per fare le pozioni visione di visione visualizzazione stavo dicendo di visione notturna la cena mucca quei ragazzi perché oggi perché ho spaccato tutto perché qui un giorno durato temporale è successo che è caduto tipo un fulmine qua mi sono trovato praticamente ecco l'altra cosa che devo farvi vedere mi sono trovato praticamente pieno di erano 45 scheletri che mi sono tra l'altro preso paura perché sono uscito dalla porta me li sono trovati lì di scheletri con che cavalcavano cavalli scheletri adesso non so se sono apparsi se c'erano già se il fulmine gli ha sistemati fra un po c'è da prendere anche quale c'è da prendere anche le le liane funziona abbastanza bene questa farm dai sono contento dunque devo far vedere adesso che ne ho presi tre mi pare a e qui ragazzi tra l'altro ho sistemato un po la situazione che qua per raccogliere i semi in modo tale che così noi quando adesso piantiamo qua che tagliamo qua che abbiamo i distributori dispensare che li ho riempiti all'inverosimile di polvere di ossa di fertilizzante diciamo riusciamo a recuperare un po di semini anche di qua sotto sono le tramogge ovviamente le tramogge sono solo qui su questa fila qua qua tutto vuoto diciamo c'è sono sotto c'è pietra cobblestone c'è addirittura e perché vado di qua che stavo andando di qua ok vi faccio vedere adesso questa stalla si sta affollando andiamo a vederli eccoli qua ragazzi i nostri tre che tra l'altro si facciano si fanno cavalcare già subito cioè o no ah no non si fanno cavalcare ancora sono lenti però sentite che rumore strano che fanno bu questi qua non so se si possono domesticare non so che cavoli di ossa da mangiare poi cioè come fanno a mangiare non hanno niente mistero ragazzi comunque a caspita si sta facendo buio questa è quella seconda cosa che volevo farvi vedere adesso non mi ricordo cosa volevo farvi vedere ancora con ragazzi adesso mi eri sono ricordato però c'è il creeper che mi sta indicando c'è un bel temporale io ragazzi cosa ho creato qua ragazzi è un po pericoloso perché ho un po di paura io dei fulmini dei lampidi nei tuoni no ma dei fulmini si guardate ragazzi cosa speriamo di riuscire a salire non dovrebbe essere molto complicato ok ragazzi ho creato questa cosa qua che in vetro una scala con con vetro eccolo lì è praticamente questa è la piattaforma di sentite che anche il rumore è praticamente una piatta eccolo la è una piattaforma che serve a vedere giusto giusto che è venuto fuori il temporale adesso che per andare a dormire è una piattaforma per vedere i fulmini dove cadono quindi ragazzi io sto qua e se vediamo un po vediamo un po che che succede mi piace un sacco vedere quanto in teoria dovrei essere oh no col cavolo che sono sicuro qua sono protetto dal teoria è la c'è a proposito ragazzi adesso mi sono ricordato ho ritrovato kirk però prima ragazzi andiamo a dormire ce la faccio andare in camera da quasi ok andiamo a dormire qua veloci speriamo che passi questo temporale ho ritrovato che ragazzi che faccio vedere anche dove era così a caso ancora qua boh ok finita temporale comunque quella lì la piattaforma ragazzi guardate che è bello planare quella lì praticamente la piattaforma a vista fulmini che ne so perché volevo capire come si formavano quegli scheletri lì era quando c'è temporale io guardo a proposito tra l'altro sono andato qua alla farm a prendermi tutte le prendermi le gelatine che mi servivano e tra l'altro ragazzi ho visto che praticamente un coso qua è sparito l'hanno fatto fuori sono rimasti questi qua ho svuotato ovviamente il è rimasto solo lui ma chi se ne frega perché tanto ne ho veramente un sacchissimo ragazzi allora vi faccio vedere dove era kirk kirk era qui praticamente era sott'acqua qua perché provando la visione la possibilità la pozione di visione notturna l'ho trovato qua sotto difatti se voi vedete qua ci ho fatto gli scalini ci ho fatto gli scalini perché per farlo salire l'ho spinto su adesso lui se ne sta diciamo tranquillo ok qua c'è la gelatina che non dovrebbe anno è partita adesso però non so dov'è perché lui bazzicava sempre per di qua lui quindi magari gli portiamo la gelatina e lo facciamo combattere ragazzi vediamo un po io mi faccio inseguire è da che un genio questa gelatina sono di qua ecco che forse ha capito vieni vieni dai ancora un pelino che ce la fai niente non ce l'arriva allora gli spacchiamo anche senza colpirla ok vieni ok vieni bene adesso c'è lo scontro ho sbagliato a piazzare c'è un pezzo che non mi quadra ok ragazzi ci sono due guardie del corpo chi c'è qua c'è james e e l'agente 007 bar a 1 che partiranno all'attacco non appena la gelatina perché sono qua ma devo capire dove ho sbagliato qua che mi manca un pezzo dai che ci passi ok ragazzi stanno per partire ok ma che ci fa qua sirio ragazzi si è buggato tutto ragazzi c'è scontro epico qua e guarda il corpo stanno lavorando a bombazza solo stare attento il mio pappagallo allora perché tu sei qua valedetto a ripor seduto cioè da dentro la casa è venuto di qua come caspiterina hai fatto vieni 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 torna in casa torna in casa torna in casa come caspiterina hai fatto dove sei allora tu adesso ti devi appollaiare bravo lì dove teoria dovresti stare sempre se no ti metto qua vai su vai su vieni 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 se la fai venire qua stai lì allora stai lì perfetto ok ragazzo lo teniamo qua adesso perché non so più si caspita come fa uscire eppure non lo tocco comunque le guardie del corpo vedete funzionano la c'è una mucca vabbè chi se ne frega va bene ragazzone questo qua diciamo le ultime piccole modifiche che ho fatto off camera volevo farvele vedere qua non so perché mi manca un pezzo eppure in teoria sono andato giusto di uno di qua uno di qua e non ne ho ma con pezzo ragazzi non so che fine abbia fatto aspettate che mi prendo una torcia che mancava quindi una torcia qua una torcia qua e qui i ragazzi ecco sono anche caduto non lo so bene ragazzoni io direi che adesso ce l'ho ecco la dovere mi pareva che avevo fatto giusto vedete che ogni tanto cadere fa bene o la siamo di nuovo protetti le mie guardie del corpo sono operative la mucca e la mancano più guardie del corpo perché ovviamente avevo messo anche joy de mayo che era qua ed è sparito qua ci sono i conigli che appena mi vedono scappano buongiorno io posso entrare da qua che li frego va bene tanto loro stanno bene quindi ragazzoli dai per questo video è tutto diciamo questo video vi è piaciuto ovviamente vi invito a mettere mi piace di iscrivervi al canale se lo avete fatto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti